GINA LOLLOBRIGIDA La manifestazione è patrocinata dal capo dello Stato, che si è compiaciuto di ricevere i premiati e il comitato organizzatore. Un David anche per Gronchi, consegnatogli da Italo Gemini. Soddisfatissimo l'attore parigino Gérard Landry, cui viene consegnato il premio istituito dall'ambasciata francese per il miglior film sentimentale dell'anno, che per la corrente stagione è stato attribuito al film La Rivale. Mezza Cinecittà a Saint-Ven-Saint per l'assegnazione delle grolle d'oro. Emozionata Valentina Cortese nel ricevere il premio da Alida Valli. La grolla a Paolo Stoppa è il giusto riconoscimento di un'intera vita dedicata all'arte. Parla il dottor De Tomasi e dopo di lui il documentalista Vittorio Gallo a Montecatini, dove si tiene il settimo concorso nazionale del film d'amatore. È presente anche il dottor Bruno, segretario dell'Agis. Numerosi i premi a incoraggiamento di questi autentici puri dello schermo. Grazie a tutti.